Inizio a domandarmi se il segnale intercettato fosse vero o no. Hai visto anche un solo Bolt d'oro? No, ma abbiamo trovato... l'oro. Sì, io avrei preferito i Bolt. Cos'è stato? Il mio amico stava commentando sulle scarse probabilità che tu ci possa condurre a... Ma davvero quella nullità ci ha definito inutili? Fagliela vedere, Jack! Mostragli quanto valiamo! Un attimo, sono certo che possiamo arrivare a una soluzione ragionevole. Credo che ci sia tutto lo spazio per ragionare. Troviamo un accordo. Clank, c'è del lavoro da sbrigare. Il pulmine arancione! C'è del lavoro da sbrigare. C'è del lavoro da sbrigare. C'è del lavoro da sbrigare. C'è del lavoro da sbrigare.